Oggi ti racconto una storiella tratta dal libro di Robin Sharma. Una sera, il padre di un bambino, dopo una giornata dura di lavoro, si stava finalmente rilassando con la lettura del giornale. Il bambino, che giustamente aveva voglia di giocare, lo stava infastidendo. Alla fine, il padre esasperato strappò una foto dal giornale, la foto del globo terrestre, la ridusse a pezzettini e le disse al figlio Tieni piccolo, cerca di rimetterli assieme, pensando che questo rompicapo avrebbe tenuto il bambino impegnato per un po'. Dopo un minuto, il bambino arriva con la foto perfettamente ricomposta. Il padre sballordito le chiese, come è fatto? Il bambino, sorridendo, con l'aria americana, le disse Vedi papà, dietro la foto della terra c'era una persona. Una volta ricomposta la persona, si è ricomposto il mondo. Lascio a te di estrarre il significato più giusto, più adatto da questa storiella per ciò che ti sta succedendo nella tua vita. Se ti fa piacere, scrivi qui sotto nei commenti e condividilo con il mondo. Per quello che riguarda la mia interpretazione, la esporrò prossimamente. Seguimi nei prossimi video. Ciao!